Saludato Gesù Cristo, sono padre Andrea David dell'Istituto del Verbo Incarnato qui da questa bellissima ambazia di Fossa Nova dove è morto e andato in cielo Santo Maso d'Aquino allora saluto a tutte le mamme che pregano le 40 ore per le vocazioni importantissime oggigiorno anche per i loro figli, allora vi invito a continuare a pregare sempre di più a Gesù Sacramentato perché dà molto frutto, dà molta forza e dà forze per la Santa Chiesa, per l'evangelizzazione per portare la parola di Cristo a tutto il mondo. Siamo uniti sempre nella Santa Messa e nelle 40 ore di preghiera davanti a Gesù e gli chiediamo questa grazia, la grazia che ci mandi i lavoratori alla nostra vigna. Dio vi benedica e viva Maria!